Parliamo di pallavolo perché è stata rinviata al 27 settembre l'udienza in tribunale a Modena per omissioni di soccorso e lesioni a carico di Erwin Engapetti, il giocatore di Modena Volley che nel novembre 2015 investì tre persone nel parcheggio della discoteca Frozen. Attualmente Engapetti è impregnato in Brasile nelle fasi finali della World League con la nazionale francese. All'epoca dei fatti lo schiacciatore non si fermò a soccorrere le tre persone urtate, una delle quali riportò un'infezione polmonare, consegnandosi poi alle forze dell'ordine tre giorni più tardi. Quasi certa la condanna, ancora da definire invece il risarciamento dei danni alle persone offese. In chiusura parliamo di Formula 1.